Gli avversari del Signore saranno frantumati, quelli che contendono con l'Eterno saranno tritati. Vedete, il Signore è buono, misericordioso, longamine e lento all'ira, ma un giorno chiamerà ogni singola anima in giudizio. Non mi vorrei mai trovare, mai, mai, ma neanche per un secondo, nei panni di chi ha alzato un dito verso i cristiani. Mai, mai, poiché è scritto non toccate i miei punti. Chi contende con l'Eterno farà una terribile fine, perché un giorno l'agnello di Dio sarà anche il leone di Giuda. Allora sarà riversata, dice l'Apocalisse, l'ira dell'agnello. Per quanti invece sono la sua sposa, per quanti hanno patito sofferenze qua sulla terra, saranno rivestiti di un corpo glorioso. Alla risurrezione i vesti splendide, banchetti eterni, saranno aperte tutte a nostra disposizione. Mentre invece per quei miserabili che hanno rifiutato la grazia di Dio, che hanno besteggiato, conteso contro Dio e fatto del male, i figlioli di Dio, poveri a loro, avranno la certezza in quel momento di aver perso tutto.